Immaginiamo che qualcuno ci chiama il telefono e ci racconta una barzelletta, qualcosa di molto divertente. In realtà, questo è un esercizio che può essere applicato nella vita. Puoi andare in strada, prendere il telefono e immaginare... Poi mettere il telefono in modo che nessuno ti chiede quando ti chiede qui. Immaginare che qualcuno ti chiede e ti chiede una bella gioca e poi riuscire. Poi continui a andare in strada. Sì, è un esercizio che si può fare nel quotidiano perché poi fate finta che qualcuno vi sta chiamando in situazioni in cui magari avete bisogno di ridere ma non potete, no? Invece appunto fate finta che qualcuno vi chiami e vedete il telefono. Perché è possibile, magari qualcuno ti chiede e ti riuscire. Perché può succedere. Naturalmente, è possibile. Può essere. Un piccolo chance, molto piccolo chance, ma possibile. Non impossibile. Che succeda che qualcuno vi fa ridere molto al telefono, però può succedere. Però può succedere. Lui ricordo di una sua esperienza. Lui ha camminato per un'ora a Gerusalemme facendo questo esercizio. E nessuno lo sapeva, ovviamente. Molto nessuno lo sapeva fare l'ora, e noi stiamo orm Venusisin e seremos la mia scatola come un po' gioca. E nessuno ci sapete il piulo. Alcumulari, è un cliovane e rinunis. Noi! 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 Certo. Noi! 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 Grazie a tutti.